che sono nei luoghi celesti, e altrove San Paolo afferma che Dio invia i suoi santi angeli al nostro soccorso per difenderci, come professa anche il salmista, e gli comanderà i suoi angeli di guardarti in tutte le tue cammine, vie. Al di là dell'importanza drammatica del soccorso difensivo degli santi angeli contro il nemico e la loro assistenza positiva nella vita spirituale, in solito Dio e Maria ci comunicano la luce spirituale, la consolazione interiore, la forza per mezzo dei santi angeli. E stesse che sia vero che i sacramenti ci santificano più efficacemente, rimane vero che sono gli angeli che, infondendo la grazia e la luce nei nostri cuori, ci preparano alla degna ricezione dei sacramenti, in questo senso che il Catecismo ci insegna, citando San Tommaso, «Gli angeli sono creature spirituali che incessantemente glorificano Dio e servono i suoi disegni salvifici nei confronti delle altre creature. Ad ogni buona nostra cooperanti angeli, gli angeli cooperano ad ogni nostro buono». Vuol dire che mai abbiamo fatto cosa buona e meritoria senza l'aiuto invisibile degli angeli. Gesù, rispondendo alla domanda degli apostoli, chi può essere salvato, insisteva, agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. In questa grande opera della nostra salvezza, Dio integra il Santo Angelo. «Ecco, io mando un angelo davanti a te per proteggerti per via e per rintrodurti nel luogo che ho preparato». Adesso consideriamo l'essenza e la storia delle consecrazioni. In senso generale, consecrazione significa una dedicazione, sia da persone o da oggetti, al culto divino. L'oggetto consecrato viene sottratto all'uso profano e posto al servizio esclusivo di Dio. Questa santa separazione avviene mediante l'intervento diretto di Dio o attraverso un rito, per esempio una benedizione della Chiesa. Ogni consecrazione nella storia della salvezza ha la sua origine in Dio. È Dio che sceglie l'uomo e lo chiama al suo servizio per unirlo a se stesso. Poiché però Dio desidera unirsi alla sua creatura con un patto di amore, questo atto consecratorio di Dio esige la libera risposta di amore da parte della creatura. In tal senso, anche la risposta dell'uomo a Dio può essere chiamata consecrazione. In quanto una risposta dell'uomo, la consecrazione è una promessa solenne di fideltà. Incontriamo questa realtà della consecrazione già lungo tutta la storia della salvezza, e questo raggiunge il suo culmine e compimento mediante Gesù Cristo. Dall'antico allianza, Dio ha scelto e consecrato a se stesso, cioè riservato per il suo servizio liturgico, tutto il popolo di Israele. Egli ha concluso l'allianza col popolo di Dio per la glorificazione del suo proprio nome. E all'interno di questo popolo sacerdotale, Dio ha prescelto la tribù delle vie, riservandola per il servizio liturgico, già a forma irarchica, già nell'Antico Testamento. I sacerdoti venivano consecrati per il bene dell'uomine nelle cose che riguardano Dio, per offrire i doni sacrifici per i peccati. Queste consecrazioni però esigono la santificazione delle persone chiamate a tale unione. Passiamo al Nuovo Testamento. Nel piano divino, la prima e fondamentale consecrazione è quella della natura umana di Cristo, verbo incarnato di Dio, verso cui tutte le altre consecrazioni sono orientate. Egli, il Messiae, cioè l'unto, consecrato e il mediatore tra Dio e gli uomini, il vero sumo sacerdote, il capo della Chiesa. La consecrazione, l'elezione e la santificazione del popolo dell'Antico Testamento, costituisce un modello, una prefigurazione della nuova Allianza che Cristo ha fondato in virtù del suo sacrificio e della consecrazione di se stesso al Padre. Diceva, Soltanto in Gesù Cristo e attraverso di Lui la consecrazione operata da Dio riceve un sigillo efficace nello Spirito Santo. Adesso, fondata la Chiesa, continua questa azione di consecrazione. Attraverso il mistero della Chiesa, e specialmente per mezzo dei sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine sacro, Cristo stesso opera la consecrazione del uomo, rendendolo partecipante del suo sacerdozio, e della sua propria santità. San Pietro spiegò, voi siete la stirpe eletta, un sacerdozio regale, una tribù santa, un popolo che è diventato la sua particolare proprietà. Lo siamo per mezzo del carattere sacramentale che viene impresso nell'anima. Questo carattere è un sigillo spirituale indelibile della consecrazione a Dio e fondamento della santità della Chiesa e di ciascuno di noi. Così sigillati, essi non sono più del mondo, bensì consecrati al servizio di Dio attraverso la loro unione con Cristo. Adesso passiamo di questa attività iniziativa di Dio di consecrarci alla nostra risposta. E questa risposta comincia con i sacramenti. essendo i sacramenti sommenzionati una allianza tra Dio e l'uomo, il fedele che li riceve accetta volontariamente nella fede tale consecrazione sacramentale e da esse fortificato conduce una vita a gloria di Dio e a Lui gradito. In quanto partecipi del sacerdozio di Cristo, il cristiano viene abilitato alla venerazione sopranaturale di Dio e alla partecipazione nella liturgia. Per mezzo delle virtù